Sono stati sbloccati a fine 2011 40 milioni di euro per il dopo 2006, risultato bipartisan firmato dai parlamentari piemontesi. Un ottimo risultato per la montagna e per il turismo piemontese. Ne abbiamo parlato con l'onorevole Giorgio Merlo. Il Parlamento è riuscito a sbloccare un provvedimento utile per il Piemonte e per le montagne olimpiche. 112 milioni di euro, risorse avanzate dalla precedente agenzia olimpica che saranno dirottate esclusivamente per rilanciare i siti olimpici di Torino e della sua provincia. Una legge molto importante, una legge bipartisan, quando il Piemonte lavora insieme sa lavorare bene, che ha un unico e grande obiettivo. Noi dobbiamo rilanciare l'eredità olimpica di Torino 2006 e queste risorse servono esclusivamente per questo obiettivo. Può anche rilanciare il turismo sportivo della zona? Sì, i siti olimpici hanno una duplice valenza. Da un lato occorre che ridiventino luogo d'eccellenza per le competizioni e quindi per l'agonismo sportivo. Dall'altro lato è ovvio che attorno al volano dei siti olimpici si può rilanciare tranquillamente e si deve rilanciare il turismo, a cominciare da quello invernale. Si è parlato anche di Coverciano della Neve. Sì, quella è l'ambizione massima, però cominciamo a far sì che questi siti olimpici non cadano nel dimenticatorio o nel degrado, come purtroppo sta capitando a Saus e a Pragelato. Dopodiché il progetto Coverciano della Neve potrà anche decollare. Devono essere più indirizzati sulle strutture o più sull'aspetto promozionale turistico? Sì, sulle strutture. La legge parla di manutenzione e di riqualificazione, partendo comunque dal sito olimpico e dalla mission che quel sito olimpico ha svolto fino adesso.